Mercati, mercatini e ancora mercati. Dopo Natale e i banchetti in ogni angolo della città, il Movimento 5 Stelle veronese prende posizione e chiede all'amministrazione di attivarsi per stendere un regolamento per i mercati straordinari, perché secondo la capogruppo del Movimento 5 Stelle, Marta Vanzetto, Verona è diventata una grande mercatopoli all'aperto e merita di essere meglio valorizzata. Questi mercati, lungi da essere un attrattore di turismo di qualità, sono divenuti ormai una grande mercatopoli all'aperto, hanno fatto diventare Verona questo fondamentalmente. Abbiamo trasferito il mercato dello stadio in centro, lo dimostra l'ultimo mercatino di Natale dove sul Ponte Pietra abbiamo potuto vedere che alcuni espositori vendevano le cover dei cellulari. Ora tenuto conto del contesto del Ponte Pietra e quindi il fatto che Verona è un patrimonio dell'UNESCO, riteniamo che serva un regolamento dove vengano indicati i criteri di ammissione degli espositori e soprattutto un piano annuale dove vengono programmati questi mercati straordinari in coordinamento anche alle altre manifestazioni che possono essere il Tocatì, le fiere e quindi una serie di eventi e anche le maratone che sono ben 19 in un anno, tutti eventi che in un modo o nell'altro qualche volta fanno sì che i cittadini siano ostaggio di queste manifestazioni.